Allora, siamo agli scoccioli, dimmi un po', chi è stato il primo pioniere della fotografia? Il primo pioniere della fotografia è stato Niels nel 1926. Ehm, ma sì. Dimmi un po', quali sono i principali componenti della macchina fotografica? I principali componenti della macchina fotografica sono l'obiettivo e il corpo macchina. Nell'obiettivo c'è il piecramma, mentre all'interno del corpo macchina c'è il prodotto. Va bene, dai, basta così, va bene. In che gruppo si trova l'ossigeno? Vabbè, qual è il nome del gruppo dell'alluminio? Allora... Il nonso. Numero atomico del bromo? Eh... Ah, che brutta storia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ciao, cosa stai facendo? Così, siamo andati a tutto fatto che abbiamo appena fatto in laboratorio fotografico. Bella. Ti piace? Sì. Bene, riproviamo. Vediamo un po' a che punto sei. Allora, dimmi un po', in che gruppo si trova l'Ossigeno? L'Ossigeno si trova nel stesso gruppo. E qual è il nome del gruppo dell'alluminio? Il nome del gruppo dell'alluminio è del muro. Va bene, allora, e il numero atomico del bromo? Il numero atomico del bromo è 3G. Va bene, dai, va bene così. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.